Individuati dai carabinieri dell'aliquota operativa, i due presunti responsabili della rapina messi a segno alla farmacia di Gariga il 20 gennaio dell'anno scorso, esattamente 12 mesi fa, si tratta di due napoletani, un 60enne e un 56enne. Il primo è stato arrestato perché pluripregiudicato, il secondo è stato denunciato per lo stesso reato di rapina in concorso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri dell'aliquota operativa, i due sono partiti da Napoli il giorno prima del colpo, hanno pernottato a Piacenza e il 20 gennaio uno dei due è entrato con un cutter, ha minacciato il personale della farmacia e si è fatto consegnare 2.000 euro in contanti. Ad inchiodare la coppia di napoletani, i filmati delle videocamere nel circuito chiuso della città di Gariga che sono stati prelevati dai carabinieri ed esaminati. Hanno avviato un'attività di tangere lunga e complessa che ha portato a identificare entrambi i responsabili, uno di questi due è stato arrestato, a un anno di distanza dalla rapina effettuata il 20 gennaio del 2016. Un'indagine molto articolata che grazie alle immagini di videosorveglianza dell'interno della farmacia, al servizio di controllo di circolazione stradale che è presente sul comune di Pudenzano e della polizia locale, poi supportata dall'attività di indagine su telefoni, tracciamento delle celle e quant'altro, ha permesso a distanza anche di mesi di ricostruire tutta la dinamica. Grazie